Proveniente da Valencia, altro grande centro a forte presenza italiana, il console Lorenzini è stato accolto dal presidente della Casa d'Italia Michele Tortola, accompagnato da Mirna Cassinelli, responsabile della segreteria del club che insieme ad altri membri della giunta direttiva hanno fatto gli onori di casa. È una gira importante quella intrapresa dal console Mauro Lorenzini con l'obiettivo di raccogliere direttamente dai connazionali le problematiche e le emergenze che in questi ultimi mesi la collettività italiana in Venezuela sta vivendo. Sono venuto a Maracai così come ieri ero a Valencia per visitare la comunità residente in questa città, conoscere il sindaco e conoscere i problemi. I problemi purtroppo sono molto comuni anche alle collettività che vivono in altre città e hanno a che fare con la situazione difficile del paese. Prima di tutto la scarsità di medicine e l'assistenza. Però sono riunioni molto importanti perché si stabiliscono anche dei contatti importanti con le associazioni o enti che operano in questi settori per poi poter avviare una collaborazione più stretta e cercare di fare il possibile per risolverli. Un intervento diretto senza intermediazioni che lascia sicuramente una impressione positiva ai tanti presenti nella Casa d'Italia di Maracai. È importantissimo sempre essere in contatto con le autorità italiane in Venezuela, in questo caso il dottor Lorenzini è una persona molto sensibile, molto nobile, molto preparata, molto disponibile anche per tutta la collettività. Lo ha voluto lui di venire, di trovare i connazionali a Maracai. Certamente la Casa d'Italia sarà il posto preciso per fare questo tipo di incontro perché è qua dove tutti gli italiani della città vengono a trovare questo tipo di situazioni e di personaggi. La riunione straordinariamente partecipata si è svolta nel Salone della Giunta che dirige il club. Un pubblico attento ha ascoltato l'introduzione del presidente Michele Tortola, a cui ha fatto seguito l'intervento della console onoraria Mariella Petricone. L'intervento del console Lorenzini è stato incentrato soprattutto sulla situazione di drammatica emergenza che sta vivendo il Paese e sulle iniziative che lo stesso Consolato può mettere in campo per alleviare le necessità dei più bisognosi. Il Consolato insieme all'ambasciata interviene innanzitutto anche a livello di autorità locali, ma soprattutto il Consolato interviene con i fondi che il Ministero mette a disposizione per l'assistenza sociale, cercando degli interlocutori sul territorio, questo è un motivo per cui sono qua, con i quali stringere degli accordi e cercare di portare l'aiuto là dove più è necessario. Non sono mancati naturalmente gli interventi del pubblico e dei rappresentanti delle varie istituzioni italo-venezuelane, tutti alla ricerca di una risposta alle tante emergenze che si vivono quotidianamente e che vanno dalla quasi totale mancanza dei farmaci alla sicurezza personale. Ormai in tutte le città vige un coprifuoco non dichiarato ufficialmente, alla difficile reperibilità dei generi alimentari che sta riportando una parte sempre più importante della popolazione verso la denutrizione. Una iniziativa che, come anche in altre occasioni, sottolinea la validità del sistema Case d'Italia o Centri Italo-Venezuelani come momento di aggregazione e solidarietà e che in questo caso mette al centro dell'attenzione il dinamismo del giovane gruppo dirigente della Casa d'Italia di Maracai. Siamo veramente contenti di avere un console come il dottor Lorenzini.